ciao a tutti il mio nome rosita e vi do il benvenuto all'angolo del crimine la storia che vi racconto oggi è quella di una famiglia di una donna dei suoi figli e di conflitti familiari che porteranno a una tragedia orribile oggi vi racconto la tragica storia di renata rapposelli è la mattina del 17 ottobre 2017 quando un uomo entra nella caserma dei carabinieri di cingoli in provincia di macerata per denunciare la scomparsa di un'amica che non dava sue notizie da poco più di una settimana il suo nome è renata rapposelli a presentare denuncia è tonino becca cece che riferisce di essere preoccupato perché l'amica non si faceva sentire da giorni in realtà i due come ci tiene a specificare l'uomo si conoscono appena e la loro è un'amicizia virtuale nata online su un gruppo di preghiere whatsapp di cui entrambi fanno parte ai carabinieri di cingoli l'uomo spiega che renata rapposelli una 64enne di chieti residente ad ancona il giorno prima e cioè il 16 ottobre avrebbe dovuto presentarsi presso gli uffici dell'inps di ancona per presentare un ricorso i cui termini scadevano proprio quel giorno becca cece che aveva aiutato la donna a presentare il ricorso si dice certo che renata non avrebbe mai mandato all'aria un appuntamento così importante talmente tanto che da settimane la donna non parlava d'altro invece inaspettatamente renata a quell'appuntamento non si era presentata l'uomo non è molto prodigo di dettagli sulla sua vita di lei dice solo che era una donna molto sola e come hobby amava dipingere si renata era una pittrice di più però l'uomo non sa riferire dopo tutto si conoscevano da appena un mese e sebbene la loro frequentazione virtuale fosse piuttosto assidua l'uomo non sapeva quali appigli fornire agli inquirenti però qualcosa la dice qualcosa che la stessa renata gli aveva riferito giorni prima della scomparsa e cioè che il 9 ottobre sarebbe andata giulianova in abruzzo per andare a trovare il figlio che viveva insieme al suo ex marito pare infatti che il figlio di renata non stesse bene e su sollecitazione dello stesso ex marito era stata invitata a trascorrere qualche ora giulianova di più l'uomo non sa eppure quella è un'informazione saliente perché proprio in quella data della donna si perderanno le tracce l'uomo si mostra molto preoccupato per l'amica anche perché era molto attiva sul gruppo renata in tutti quei giorni non aveva mai risposto alle innumerevoli chiamate dell'amico e di un'altra amica in comune che ripetutamente aveva provato a contattarla nessuna chiamata nessun messaggio nessun aggiornamento dello status niente di niente i carabinieri accolgono la denuncia e si mettono subito sulle tracce di renata partendo da un dato oggettivo la presunta partenza della donna per giulianova per andare a trovare il figlio i carabinieri di cingoli contattano telefonicamente il figlio e l'ex marito di renata rapposelli simone e giuseppe santoleri per comunicargli che un uomo aveva denunciato la scomparsa della madre e della moglie e che erano a conoscenza del fatto che la donna sarebbe dovuta partire per giulianova quel giorno simone si mostra subito molto sorpreso e ai carabinieri dice che sì in effetti la madre era venuta sua giulianova ma era rimasta pochissimo un'ora appena e poi era subito ripartita di più non sapeva a vederli insieme nessuno direbbe che giuseppe e simone santoleri siano padre figlio i due uomini sono diversi nel fisico ma soprattutto nella personalità simone santoleri ha 43 anni è un uomo alto e corpulento con pochi capelli gli occhi perennemente sgranati il tono di voce alto e perentorio un tipo dall'eloquio incontenibile giuseppe invece è uno scricciolo di uomo magro con il viso emaciato la barba incolta fuma una sigaretta dietro l'altra ha una voce flebile e una postura di messa l'uomo è un invalido civile ha infatti un problema di mobilità alla mano e per questo percepisce una pensione è un uomo semplice giuseppe ma anche succube è remissivo e al contrario del figlio simone che è uno dalla chiacchiera facile è un uomo di pochissime parole giuseppe interviene solo se interpellato e anche durante quella telefonata dei carabinieri lascia che sia il figlio a prendere in mano la situazione e a raccontare quanto era accaduto il pomeriggio del 9 ottobre 2017 già ma cosa dice esattamente simone santoleri ai carabinieri come prima cosa l'uomo riferisce che non era a conoscenza del fatto che la madre fosse in viaggio verso giulianova e questo perché i due non si parlavano da otto anni per via di alcune incomprensioni la donna infatti come la stessa renata aveva riferito agli amici del gruppo era venuta fin lì su iniziativa dell'ex marito poi però tra i due ex coniugi sarebbe nata una discussione legata ai soldi del mantenimento e renata era stata gentilmente messa alla porta da simone e rimessa in macchina insieme all'ex marito per tornare indietro a questo punto i carabinieri sempre al telefono si fanno passare giuseppe per farsi spiegare dove avrebbe lasciato la ex moglie giuseppe con voce flebile incerta spiega di aver lasciato renata a due chilometri dal santuario mariano di loreto perché era desiderio della donna andare su a pregare l'uomo quindi l'aveva lasciata lì in aperta campagna marchigiana ed era tornato indietro i carabinieri non verbalizzano quella conversazione assolutamente informale né tantomeno convocano santoleri padre in caserma il che è strano visto che giuseppe era stata l'ultima persona ad averla vista prima della scomparsa ma tante sono le cose strane in questa storia e lo vedremo il giorno dopo quella telefonata giuseppe santoleri viene colto da un malore l'uomo viene accompagnato in pronto soccorso dove gli viene diagnosticata una grave crisi nervosa viene così ricoverato nel reparto di psichiatria ma quella non è di certo una novità giuseppe infatti è un uomo dalla psiche molto fragile un soggetto neurotico che fin dal 1992 era entrato e uscito dai reparti di psichiatria quel crollo emotivo quindi non stupisce nessuno era solo uno dei tanti acuito forse dall'aver saputo della sparizione di renata nel frattempo la notizia della scomparsa della pittrice di chieti raggiunge anche l'altra figlia della donna maria chiara santoleri che però inspiegabilmente non sembra preoccupata anzi secondo lei la madre si trovava presso qualche convento in cerca di un po di pace l'orreto era un luogo che renata conosceva molto bene e quindi secondo maria chiara era facile che la donna avesse trovato rifugio in uno dei tanti conventi della zona e che con il diffondersi della notizia si sarebbe fatta viva ma i giorni passano e dire nata nonostante la sua storia iniziasse a circolare non vi era ancora nessuna traccia ma mentre i carabinieri indagano poco e niente su quella strana scomparsa la notizia inizia a diffondersi a macchia d'olio nelle redazioni dei giornali locali e nazionali fino a raggiungere la tv e i primi a occuparsi del caso sono i giornalisti di chi l'ha visto programma che da 40 anni si occupa di casi di scomparsa un inviato della trasmissione si dirige insieme alla troupe verso giulianova per parlare con simone santoleri che si mostra subito molto disponibile a parlare deambuletti l'inviato della trasmissione rimane con lui un giorno intero e piano piano simone si lascia andare inizia a raccontare di sé del rapporto problematico con la madre e pur mostrandosi comprensibilmente preoccupato non manca di fare di lei una descrizione quasi brutale il figlio descrive renata rapposelli come annaffettiva bigotta e profondamente venale e poi ho risposto io quando ha visto l'atto la prima cosa che andava a guardare è chi era l'industria della casa ma perché io non ci stavo qua? perché c'è scritto giocondo secondo te ma questo ti parlo non adesso sono 12 anni che vivo qui capito? per farti capire quindi tu mi dici è possibile che tu possa avere no perché sono andata la casa io ho mangiato pane acqua quindi anzi magari pane acqua io ho mangiato le imbondizie ma è quando si accende la luce rossa delle telecamere che simone va a briglia sciolta e il suo è proprio un one man show talmente prodigo di particolari aneddoti che quasi l'inviato non ha bisogno di chiedergli nulla simone nel suo racconto parte da quel pomeriggio quello in cui la madre da ancona aveva raggiunto in treno giulianova per andarlo a trovare lo stesso giorno in cui renata scompare improvvisamente l'uomo di fronte allo sguardo vigile di deambuletti descrive l'ingresso della madre nella casa che lui e il padre condividevano un appartamento di 35 metri quadri appena inserita all'interno di un complesso di villette per lo più case estive l'uomo racconta di come renata una volta in casa si era messa ad osservare le modifiche fatte all'appartamento in particolare una cucina che simone aveva ricavato da una verandina e soprattutto riferisce i commenti che renata avrebbe fatto in merito la donna si sarebbe guardata attorno e con tono sarcastico avrebbe detto vi siete fatti la cucina si vede che i soldi girano qui non certo il migliore degli esordi e questo perché secondo simone il vero motivo per cui la madre si era fatta due ore di viaggio fino a giulianova era per spillare loro dei soldi non certo per vederlo ma anche giuseppe il padre aveva altri scopi e cioè secondo la versione di simone l'uomo avrebbe voluto ritornare con la moglie riunire per così dire la famiglia poi renata avrebbe iniziato a discutere con il marito tema della discussione è sempre quello i soldi del mantenimento che a fatica renata era riuscita ad ottenere i commenti della donna sempre secondo il racconto di simone sono sferzanti ritieniti fortunato che ti ho chiesto solo 200 euro e comunque mi devi ancora 3000 euro a quel punto simone che ascoltava la conversazione da un'altra stanza irrompe in cucina e interviene in difesa del padre l'uomo lo tira da una parte e gli dice lo vedi a lei non importa niente che io stia male è venuta solo per riscuotere e chiede al padre di rimetterla in auto e riaccompagnare le stazioni perché lui non la voleva più in casa così a un'ora circa dall'arrivo della donna giuseppe e la ex moglie sarebbero rimontati in auto per tornare indietro poi simone racconta ciò che il padre gli avrebbe detto di quanto accaduto in auto quel pomeriggio lungo il tragitto verso ancona innanzitutto giuseppe invece di riportare renata in stazione racconta di aver deciso di accompagnarla fino ad ancona in auto avrebbe quindi preso la statale 16 adriatica in direzione del capoluogo marchigiano ma una volta giunti nei pressi del santuario di loreto la donna avrebbe chiesto all'uomo di fare una piccola deviazione e di accompagnarla al santuario perché voleva pregare ma accade qualcosa i due in auto tornano a discutere ed una discussione così accesa che renata a un certo punto giunti nei pressi del santuario mariano avrebbe chiesto all'ex marito di fermare l'auto e farla scendere al santuario ci sarebbe andata a piedi giuseppe che è molto adirato non solo fa dire due volte e a due chilometri circa da loreto nel bel mezzo della campagna marchigiana fa scendere renata dall'auto fa un'inversione a u e torna verso giulianova dove arriva intorno alle 17 e 30 questo secondo simone è quello che era accaduto quel giorno ed è un racconto che nasconde tra le pieghe tanta sofferenza e risentimento quando simone parla tutto il suo corpo vibra vibrano gli occhi la sua testa ciondola come un pendolo impazzito in segno di dichiarato disprezzo e mentre racconta di quel litigio di quella presa di posizione nei confronti della madre il suo sguardo è duro e il suo tono di voce oscilla tra delusione e indignazione nelle sue parole e nei suoi gesti si coglie un'aggressività che l'uomo non riesce in alcun modo a contenere al centro di tutto c'è questa madre e il suo bisogno spasmodico di soldi simone sembra non mostrare alcuna preoccupazione per le sorti di renata quanto piuttosto per quelle del padre che mentre va in onda la diretta imbottito di psicofarmaci giace dentro la sua camera incapace di proferire parola ma perché simone ce l'aveva tanto con sua madre cos'era accaduto fra di loro per spiegare la complessità di questo rapporto bisogna entrare dentro le viscere di questa storia e di questa famiglia profondamente infelice partendo dal principio da renata rapposelli di lei e della sua vita prima di incontrare giuseppe santoleri si sa poco sappiamo però che è nata a chieti nel 1953 da una famiglia della medio borghesia si racconta che era stato il padre a trasmetterle la passione per la pittura una passione che renata porterà avanti per tutta la vita quando è ancora molto giovane incontra giuseppe santoleri e con lui si fidanza contro il parere della sua famiglia i due però sono caparbi si sposano e mettono al mondo due figli simone e maria chiara che però crescono in un clima teso e profondamente infelice per via di insanabili e inconciliabili differenze caratteriali tra i due coniugi tensioni che inevitabilmente avevano investito anche i figli tuttavia la loro situazione economica può definirsi più che solida quelli sono gli anni d'oro della famiglia santoleri i tempi della casa di chieti un appartamento così grande che nei ricordi di simone bambino egli ci scorazzava in bici i tempi delle belle auto dei bei vestiti di agi e di lussi giuseppe infatti lavora come operaio specializzato per la agip un lavoro molto molto ben pagato egli di quello stipendio tiene solo una piccola parte il resto lo consegna renata ma il marito di renata è una figura sostanzialmente assente e per la maggior parte del tempo vive a milano mentre renata a chieti coltiva le sue passioni come il tennis e ovviamente la pittura ma è una donna irrequieta renata che sente il bisogno di cambiare spesso aria e così i santoleri per volere della stessa renata cambiano spesso città da chieti si trasferiscono a giulianova e infine francavilla se renata è addetta di tutti una donna dal pio deciso giuseppe di contro ha un carattere debole remissivo sia con la moglie che con i figli che dall'altra parte dovevano fare fronte a una madre profondamente religiosa rigida e assente per via del suo lavoro di artista che assorbiva tutte le sue energie ma soprattutto costantemente preoccupata di proteggere i figli da entità maligne che credeva potessero insinuarsi in loro da un momento all'altro e così ogni sera presa dal suo delirio mistico prima di metterli a letto renata li benediva con manciate generose di acqua benedetta e preghiere sussurrate nel silenzio della notte per scacciare i demoni durante il sonno nei ricordi di infanzia di simone santoleri quel fervore religioso era apparso quasi improvvisamente sì renata era stata educata con i valori cristiani ma il sentimento religioso era giunto dopo e a detta di simone da un giorno all'altro quella improvvisa conversione si rifletterà anche nei suoi dipinti renata in arte reni che era nota per i suoi pierrot femminili e i paesaggi a un certo punto stravolge il proprio stile di pittura e i soggetti dei suoi quadri cambiano drasticamente reni inizia a pescare a piene mani dalla bibbia e per lo più dipinge icone sacre e sorridenti gesù biondi il segno inequivocabile di quella folgorazione cristiana passano gli anni e i tempi d'oro finiscono giuseppe smette di lavorare per la agip e la loro situazione economica si fa di colpo molto complicata renata però è completamente assorbita dalla sua nuova vena creativa la donna rimane chiusa nel suo studio di francavilla mare dove vivevano e passa lì dentro ore e trascurando i figli la casa e tutto renata divisa tra arte fanatismo religioso inizia a vedere il male in ogni cosa e si convince che il maligno si fosse insinuato dentro i suoi figli e il marito la loro casa diventa una distesa di altarini croci candelevotive renata la croce la mette pure in mezzo al letto coniugale scatenando violenteliti con il marito ma al di là di quello renata e giuseppe sono come il giorno e la notte giuseppe è un uomo remissivo semianalfabeta che parla quasi esclusivamente in dialetto e proviene da una famiglia umile mentre renata è estroversa sfoggia un eloquio forbito e dipinge dalla mattina alla sera una passione quella per la pittura mal vista dal marito giuseppe perché era una passione dispendiosa e straniante ma renata un bel giorno stanca di quella situazione comunica al marito che non lo vuole più in casa e letteralmente gli butta le valigie in cortile in un segno inequivocabile di rottura giuseppe santoleri quella separazione la subisce e in più non sa dove andare e non ha la forza mentale di trovare una sistemazione adeguata trovare lavoro e badare a se stesso e quindi è costretto a vivere nella sua seicento parcheggiata nel cortile di casa renata però non lo riaccoglierà mai più in casa per lei quel matrimonio è un capitolo chiuso giuseppe pur essendo in una situazione economica precaria percepisce però una piccola pensione e con quella grazie alla figlia riesce ad affittare un mono locale e in qualche modo prova a tirare avanti grazie anche a qualche lavoro saltuario come aiuto muratore renata invece viene assunta le poste ma quella è per lei un'esperienza fallimentare la donna per qualche ragione inizia essere vessata dai colleghi isolata e ridimensionata nel suo ruolo in poche parole subisce mobbing renata resiste qualche mese poi chiede il licenziamento ma non prima di aver avviato una causa per mobbing per cui otterrà tra risarcimento e buon'uscita una cifra pari a 60.000 euro di quei soldi mille li darà alla figlia il resto deciderà di investirlo nella sua arte renata vuole assolutamente diventare una pittrice professionista e per qualche tempo le cose sembrano funzionare all'oreto in particolare tutti la conoscono come la donna con i quadri in mano sì perché renata i quadri se li portava in giro per farli vedere a conoscenti amici e proprio all'oreto aprirà un piccolo spazio a delier per esporre le sue opere però dopo un po è costretta a chiudere ma renata rapposelli non è un tipo che si arrende facilmente così viene a sapere di un certo andrea di pre personaggio controverso sedicente esperto d'arte che in cambio di bei soldoni si offre di promuovere le opere di artisti sconosciuti allo scopo di vendere qualche quadro andrea di pre ancona sono nello studio di una delle artiste che più ha fatto parlare la cronaca artistica italiana degli ultimi anni nata a chieti vive qui ad ancora dove allo il suo studio dove vi invito ad arrivare per godere delle sue rappresentazioni il nome reni rapposelli quindi è un piacere intanto essere qui con te in questo momento sì ho iniziato da quasi bambina perché mio papà dipingeva e la mia grande passione per l'arte è iniziata da lì di pre ha un piccolo spazio televisivo distribuito presso varie emittenti locali in giro per l'italia è un bel giorno renata lo contatta per avere uno spazio nel suo programma i due pattuiscono alla cifra e la trasmissione viene registrata di pre con parole altisonanti presenta al pubblico questa donna che si fa chiamare reni rapposelli ma ahimè anche quel tentativo va a vuoto e renata non solo rinuncia al sogno di poter vivere della sua arte ma si ritrova completamente senza soldi perché in pochi mesi aveva fatto fuori tutto per renata rapposelli inizia un periodo buio che coincide con la perdita del lavoro e con l'aggravarsi della sua disposofobia detta anche sindrome dell'accumulo renata è un'accumulatrice seriale e nei mesi successivi alla separazione e alla perdita del lavoro renata non si frena più e inizia ad accumulare di tutto bottiglie di plastica contenitori in vetro parattoli in latta libri giornali riviste volantini piatti bicchieri e più le cose si accumulano più renata ha bisogno di sostituire le cose che nel frattempo non riesce più a trovare perché sottocumuli e cumuli di altre cose con altre cose ancora contribuendo in maniera drammatica a riempire la casa di oggetti che nel suo appartamento trovano spazio nei posti più impensabili nella vasca da bagno nel lavandino del bagno tanto da rendere impossibile potersi fare una doccia o anche solo sciacquarsi le mani e ancora pile e pile di libri riviste che occupano l'ingresso di casa tanto da rendere difficile anche il passaggio una situazione invivibile per la figlia maria chiara che si arrende di fronte all'evidenza vivere con la madre era diventato impossibile la ragazza fa armi e bagagli e va a vivere con il padre nel suo monolocale ma anche quella è una sistemazione precaria e la situazione in breve diventa anche lì invivibile renata per anni vivrà in uno stato di totale indigenza e nel 2015 verrà sfrattata perché non pagava l'affitto da mesi si ritroverà così affidata ai servizi sociali che dapprima la sistemeranno presso una comunità di accoglienza e successivamente le faranno assegnare un alloggio popolare ad ancona renata però non percepisce alcuna entrata a parte i buoni pasti che le passano gli assistenti sociali e avvia così la pratica per il mantenimento da parte del marito renata non pretende soldi in più pretende ciò che le spetta di diritto ma da quella pratica scaturirà l'ennesima guerra di famiglia dall'altra parte della barricata c'è giuseppe che nel 2010 accetta di farsi aiutare dal figlio simone che da anni vive a giulianova in abruzzo in una casa che lo stesso aveva acquistato e dove vive insieme alla sua compagna giada e la figlia di pochi anni ma anche lì la situazione è al limite del vivibile sia perché la casa è molto piccola 35 metri quadri appena sia perché simone e la compagna sono ai ferri corti e la presenza del padre non fa che complicare una situazione già fortemente in bilico la compagna che a denti stretti accetta la presenza del padre di simone lo accusa di non riuscire in alcun modo a provvedere la famiglia l'uomo negli anni era passato da un lavoro precario ad un altro ed estate si arrangiava a fare il bagnino ma in realtà simone di lavorare non aveva alcuna voglia tuttavia riuscirà a farsi assumere come autista di pulmini a giulianova dura poco però dopo un paio di mesi verrà licenziato perché in più di un'occasione non si era presentata al lavoro simone successivamente trova lavoro anche come guardia giurata ma passa il suo tempo a escogitare un modo per vivere senza lavorare e a un certo punto gli viene un'idea sa della situazione precaria del padre sa che vive in un monolocale e quindi con la scusa di aiutarlo a trovare una sistemazione stabile gli offre di venire a vivere con lui e la compagna giuseppe accetta molla il monolocale e la figlia maria chiara e va a vivere a giulianova ignaro o forse no che nei progetti del figlio c'era quello di vivere alle spalle del padre potendo contare sulla sua pensione dopo tutto simone il garantiva assistenza cibo un letto una famiglia che avrebbe pensato a lui giuseppe però diventa presto succube del figlio e a lui affida anche tutta la gestione dei suoi soldi simone però è lontano dall'essere un figlio accudente e paziente anzi tutt'altro perché l'uomo seppur in misura minore rispetto alla madre nutre un forte risentimento anche nei confronti del padre reo di essere stato troppo debole con la moglie e di aver lasciato che gli rovinasse la vita simone con il padre comunica urlando a volte lo schiaffeggia e quando non ha voglia di averlo fra i piedi lo butta fuori a dormire sulla sdraio oppure lo tiene segregato nello stanzino con la porta chiusa chiave inoltre tiene per sé tutti i soldi e a lui da giusto 5 euro al giorno per comprare le sigarette simone santoleri è un uomo profondamente insicuro e possessivo e la presenza del padre non fa che acuire la sua aggressività già da quasi ogni giorno subisce terribili scenate da parte del compagno che è geloso del suo lavoro dei suoi colleghi dei clienti e di chiunque le si avvicini e così la donna pur di avere un po di pace preferirà smettere di lavorare simone quindi tiene segregati tutti tiene segregato se stesso in primis ma anche il padre la compagna e anche la figlia e quella situazione ben presto diventa esplosiva l'uomo quando non lavora come guardia giurata passa le sue giornate in casa davanti al televisore a giocare alla playstation o ammira magia un gioco di ruolo online dove un giorno conosce cinzia una donna di firenze molto più grande di lui e con cui passa ore e ore a giocare a chattare trascurando completamente il resto ma non ci sono solo gli svaghi online ci sono anche le relazioni che simone intreccia con altre donne donne che spesse volentieri porta a casa quando la compagna non c'è fino a che un giorno giada lo sorprende nella loro camera da letto con una delle sue amanti quel tradimento unito a tutto il resto sancirà la fine della relazione simone però quella separazione la prende malissimo e un giorno con la scusa di un chiarimento porta la ex in un luogo isolato lì l'uomo le mostra la pistola di ordinanza e le dice qualcosa che giada non dimenticherà mai ti ho portata qui per ammazzarti ma ti risparmio perché sei la madre di mia figlia ma se scopro che stai con un altro ti ammazzo lì per lì la ex finge di voler tornare con lui poi però una volta a casa si dirige presso la caserma dei carabinieri e lo denuncia a simone santoleri viene notificato un ordine restrittivo non può in alcun modo avvicinarsi alla ex e alla figlia e di quest'ultima perderà anche la patria potestà siamo nel 2011 simone perde la compagna la figlia e anche il lavoro e a quel punto il suo isolamento sociale si fa cronico l'uomo un lavoro non lo cerca neanche più vive con il padre e dorme fino a tardi rimanendo ore e ore chiuso nella sua camera a giocare nel frattempo approfondisce la conoscenza con cinzia che da amicizia si trasforma in un rapporto più intimo ma anche cinzia le sue belle grane familiari con un figlio a carico e un ex marito che continua a vivere in casa con lei e per questa ragione è lei che raggiunge simone a giulianova un paio di volte al mese in cinzia che ha 60 anni forse simone rivede la figura materna che non riusciva a ritrovare in renata la donna che lo aveva messo al mondo quando nel 2015 renata inizierà la sua battaglia per il diritto al mantenimento da parte del marito simone non gliela perdonerà tra i due inizia una vera e propria guerra a colpi di diffide e ricorsi e le poche volte in cui si vedranno voleranno insulti e minacce simone quei 200 euro alla madre non vuole proprio darli perché se gliela avesse concessi poi chissà cos'altro avrebbe preteso e lui non poteva permetterlo lo abbiamo detto i soldi e l'odio per la madre sono i due capi saldi della sua esistenza così ossessionato dal denaro che l'uomo escogitava metodi sempre nuovi per non pagare bollette e tasse ad esempio è noto che si fosse allacciato abusivamente alla rete elettrica del comune e che avesse fatto dei lavori in casa senza pagare la sanatoria per i lavori di allargamento simone è un uomo fortemente problematico patologicamente infantile uno che scappa dalle responsabilità che si rifugia nel mondo virtuale per non affrontare le giornate e che attribuisce alla madre tutti i guai della sua vita ed eccolo il nodo stretto di questa storia l'odio che domina l'animo di simone santoleri un odio che ha come bersaglio perfetto renata rapposelli sua madre un risentimento che lo porta a distorcere i suoi ricordi di bambino a tutti simone dirà di aver avuto un'infanzia orribile di essere stato un bambino poco amato di aver ricevuto poche carezze poche attenzioni renata nei racconti del figlio è una donna cattiva anaffettiva presa da se stessa e dalla sua arte e del tutto incapace di dargli amore una donna rigida preda delle sue manie mistiche una che vedeva demoni ovunque e li vedeva soprattutto in lui il racconto che lo stesso simone fa della sua infanzia adolescenza è un film dell'orrore ad esempio pare che già otto anni la madre lo avesse buttato fuori casa e che lui non sapendo dove andare fosse finito in stazione a dividersi i pasti con i senza tetto della zona oppure racconta di essere finito a dormire in macchina o sotto i ponti nei dintorni di chieti non è chiaro se i racconti di simone corrispondano a realtà anche perché si dice che in realtà era lo stesso simone a prendere la porta e andare per strada e che renata andasse in giro a cercarlo disperata ma è durante gli anni dell'adolescenza che i loro rapporti si fanno ancora più distanti e violenti renata sempre secondo simone non sopporta niente di ciò che fa il figlio non sopporta il modo in cui si veste la musica metal che ascolta che considera musica del demonio e passa le sue giornate a pregare per la sua anima simone racconta che renata era solita bruciare la sua biancheria intima perché essendo venuta a contatto con la sua pelle tramite quella il maligno poteva insinuarsi in casa anche i suoi diari vengono sistematicamente bruciati ma non solo simone festeggerà i 18 anni chiusa a chiave in camera mentre dietro la porta renata faceva riti purificatori e sgranava rosari pregando per l'anima dannata del figlio anche maria chiara la secondo genita di renata sarà bersaglio mobile della madre la ragazza che era fan dei metallica un giorno troverà tutte le sue magliette ridotte a brandelli bruciati renata gli aveva dato fuoco e poi acqua benedetta profusione su entrambi i figli anche rispetto ai rapporti con la figlia avuta dalla ex compagna simone racconta una sua verità alla nuova compagna cinzia dice che la figlia gli mancava e che soffriva per non averla con sé la ex compagna invece dirà che simone si rammaricava di aver avuto una figlia femmina e dopo la separazione pur di non avere più alcun dovere nei confronti della bambina si era convinto a toglierle il suo cognome a disconoscerla come figlia arrivando persino a fare richiesta formale presso il tribunale dei minori di macerata simone è un uomo che prova odio con una facilità estrema odia la madre che chiama con gli epiteti più disparati odia la ex compagna che a detta sua gli aveva rovinato l'esistenza ma il suo odio lo riserva anche alle categorie sociali a lui in vise ad esempio prova disprezzo per le comunità rom al punto che quando viene a sapere che l'appartamento sfitto accanto al suo sarebbe andato una famiglia sinti simone senza pensarci due volte aveva acquistato una tanica di benzina aveva dato fuoco all'appartamento in modo che fosse inagibile e che non potesse essere affittato a persone a lui sgradite anche nella sua cerchia di amici più stretti i suoi atteggiamenti risultano ambigui il più delle volte simone santoleri si rende protagonista di episodi al limite egli poteva passare dall'essere l'amicone della compagnia a momenti in cui tirava fuori discorsi che mettevano paura discorsi che implicavano entità maligne le stesse che la madre per tutta la sua infanzia e adolescenza aveva cercato di combattere lui un giorno a un'amica chiederà di guardarlo negli occhi e di osservare il piccolo nevo oculare che aveva nell'occhio lo vedi quel puntino nero sulla mia pupilla le dice quello è il graffio del demonio io sono il demonio questo è simone santoleri e queste sono le cose che egli stesso racconta di fronte alle telecamere di chi l'ha visto ma torniamo per un attimo al racconto di quel pomeriggio gli inquirenti se in un primo momento prendono decisamente sotto gamba quella situazione pensando a una fuga volontaria in un secondo momento mettono insieme tutte le incongruenze di quel caso e di quel racconto e puntano i riflettori proprio su simone e giuseppe santoleri innanzitutto il cellulare di renata non aveva mai agganciato la cella di loreto ma sempre solo quella di giulianova e in ogni caso dopo le 13 e 30 il cellulare della donna non darà più segnale di vita e fatto ancora più strano quel giorno anche i cellulari di giuseppe e simone risulteranno disattivati nelle stesse ore altra incongruenza la strada che da giulianova porta a loreto è una strada statale piuttosto trafficata e con qualche semafro come è possibile che santoleri tra andare e venire ci avesse messo solo un paio d'ore quando tra andate e ritorno ci si mette almeno quattro ore giuseppe santoleri inoltre non era noto per essere un guidatore esperto o particolarmente amante della guida veloce né tantomeno era solito percorrere lunghi tratti di strada egli al massimo andava al supermercato dietro casa e quasi mai da solo altra cosa strana perché renata decide di farsi lasciare due chilometri da loreto senza contare il fatto che la strada per il santuario si inerpicava parecchio e renata come riferiranno le persone a lei vicine non sarebbe stata in grado di camminare per via di un problema al ginocchio la donna si appurerà aveva bisogno di una protesi e quindi come poteva pensare di farsi due chilometri a piedi per non parlare di giuseppe santoleri che abbandona la donna sul ciglio della strada non preoccupandosi di eventuali pericoli nel frattempo scartata l'ipotesi dell'allontanamento volontario iniziano ufficialmente le ricerche della donna che si concentrano nei pressi del santuario mariano nessuno però quel giorno sembra aver visto renata girarsi nei pressi del santuario nella donna sarebbe stata vista camminare sul ciglio della strada né quel giorno né nei giorni successivi verrà anche sentita un'amica di renata la quale riferirà un particolare che aggiunge un tassella al quadro che gli inquirenti iniziano a delineare la donna racconta che nei giorni precedenti alla partenza renata si era mostrata molto preoccupata per le condizioni fisiche del figlio il marito infatti in diverse telefonate le aveva descritto una situazione clinica piuttosto seria compromessa tanto che la donna al gruppo aveva confessato di temere che il figlio avesse un tumore allo stomaco e aveva invitato i suoi amici virtuali a pregare per lui un giorno però renata l'aveva chiamata manifestandole la paura che il marito le stesse mentendo e che avesse inscenato la malattia del figlio per costringerla a incontrarlo renata temeva quindi che le stessero facendo un'imboscata e a quale scopo è davvero simone santoleri stava così male da temere che avesse qualcosa di grave in realtà no l'uomo soffriva di una forma piuttosto seria di reflusso gastroesofageo che però teneva sotto controllo grazie ai farmaci quindi ci si chiede perché giuseppe santoleri aveva detto alle ex moglie che simone forse aveva un tumore nel frattempo la vicenda trova sempre più spazio nei vari talk che si occupano di cronaca nera la truppa di chi l'ha visto nei giorni successivi a quel primo collegamento tornerà a giulianova per ragguagliare gli spettatori sui progressi delle ricerche protagonista di ogni collegamento sempre lui simone santoleri l'uomo che fino alla settimana prima viveva sepolto in camera adesso affronta con rara disinvoltura le telecamere e al solito deambuletti inviato di chi l'ha visto con aria divertita le mani in tasca in un clima di assoluta distensione dice che anche mediaset lo aveva chiamato per fargli un'intervista lamentando sì che gli avessero dato la stessa ora di un'altra diretta in un'altra trasmissione rai quasi dimentica il perché di quelle dirette dimentica di essere figlio di una scomparsa dimentica che quei sorrisi quelle battute su chi sta facendo a gara per averlo in trasmissione potrebbero metterlo in cattiva luce l'uomo in ogni diretta di fronte alla telecamera riprende il racconto di quella giornata arricchiendo però la narrazione di dettagli sempre nuovi sia rispetto alla discussione avuta tra i due ex coniugi sia su ciò che sarebbe accaduto durante il tragitto in auto a ogni diretta una versione diversa in una renata avrebbe detto di voler andare all'estero con giuseppe e vivere della pensione e della vendita dei quadri in un'altra avrebbe detto al figlio che a lei del padre non importava niente e che voleva solo la sua pensione cucina ho sentito io sono ancora tua moglie testuali parole proprio io sono ancora tua moglie il mantenimento mi tocca mi spetta ritieni di fortunato che vi ho chiesto solo 200 euro potevo chiedervi anche di più e in più mi dovete ancora 3000 euro a proposito la domanda loro vuoi papà con tutta la pensione se che mi ha risposto noi voglio la pensione papà te lo puoi tenere mamma di colpo fa o se no andiamo all'estero andiamo all'estero con la pensione tua io vendi quadri e andiamo avanti ci apriamo uno studio di pittura lì a quel punto ho capito stop ferma è ripartita di nuovo con il discorso della pittura e a quel punto ho detto papà io stavo di là vi ripeto io ero in cucina ero in cucina ovviamente ascoltavo perché ascoltavo però ero in cucina perché proprio già sapevo dove andava a parare quindi alla fine ho detto vabbè appena detto andiamo all'estero io con i quadri divento famosa io i quadri vendiamo i quadri apriamo uno studio sono uscito da lì e papà per piacere mi fa un piacere e poi diversamente da quanto riferito da giuseppe santoleri e cioè che era stata renata a chiedergli di farla scendere a due chilometri dal santuario simone racconterà la versione che il padre gli avrebbe riferito e cioè che renata mentre andavano verso ancona non faceva altro che chiedergli dei soldi e a quel punto giuseppe stufo di sentirla ciarlare sempre delle stesse cose aveva piantato i e l'aveva mollata lì in mezzo al nulla non preoccupandosi di accompagnare renata fino al santuario simone è ormai incontenibile e non si preoccupa neanche più di mostrarsi in apprensione per lei ma quelli di chi l'ha visto non sono gli unici ad approfittare della chiacchiera facile di simone santoleri l'uomo in dieci giorni appare in diverse trasmissioni e ad ogni servizio aggiunge sempre qualche particolare in più ma il più delle volte si contraddice e le sue sono contraddizioni grossolane ad esempio durante un servizio per una trasmissione di rai 1 simone avrebbe detto che la madre come prima cosa gli avrebbe chiesto delle sue condizioni di salute ma appena due giorni dopo in un'altra diretta sosterrà che la madre era entrata e subito si era messa a discutere di soldi senza chiedergli assolutamente nulla se fosse entrata mi avesse detto come stai si fosse comportata una volta una come una madre e poi c'è un altro fatto strano durante uno dei tanti collegamenti a domanda diretta se simone avesse fatto del male alla madre l'uomo va letteralmente in panico incespica con le parole palbetta qualcosa che riguarda la casa la pensione ma sostanzialmente non risponde tu non hai fatto male a tua mamma? non allora sarebbe innanzitutto sarebbe incredibile capire poi come cioè io la casa praticamente l'ho presa l'ho comprata in mia quindi sinceramente io della pensione di papà a me non mi interessa quindi ci sono delle situazioni sinceramente no vi posso assicurare per certo che ci sono delle situazioni completamente diverse nel senso io ho vissuto da solo per una vita quindi ti sei fatto carico di tuo papà giusto? sinceramente ti sei fatto carico di tuo papà se tu che lavori se tu che fai tutto che vada alla casa però il ritratto che simone fa della madre cioè di una donna venale anaffettiva stona completamente con ciò che le persone che avevano conosciuto Renata dicevano di lei e cioè che fosse una donna di grande dignità che nonostante vivesse con appena 200 euro al mese non aveva mai chiesto soldi a nessuno lei con tutti i suoi limiti chiedeva solo amicizia e affetto e una piccola pensione tutta sua tale da poter rinunciare anche ai 200 euro del mantenimento che le passava l'ex marito come riferito dal suo avvocato il 2 novembre 2017 simone e giuseppe santoleri vengono convocati in procura e al termine di un interrogatorio fiume vengono indagati per omicidio e occultamento di cadavere in realtà nessuna certezza sul fatto che Renata fosse stata uccisa ma l'iscrizione al registro degli indagati avrebbe permesso agli inquirenti di sequestrare l'auto di giuseppe santoleri una fiat 600 bianca e di effettuare dei rilievi nella casa dove padre e figlio vivevano e dove la stessa Renata aveva trascorso un'ora prima di sparire nel nulla l'esito di quelle perizi però è nullo i RIS che avevano scandagliato l'auto con il luminol non troveranno alcuna traccia ematica così come in casa e poi la svolta improvvisa e devastante è la mattina dell'11 novembre 2017 e ci troviamo a Tolentino nel Maceratese un uomo a bordo della sua auto sta percorrendo la Val di Chienti una strada statale che costeggia le rive del fiume Chienti quando improvvisamente sente un bisogno fisiologico da espletare l'uomo imbocca una strada di campagna incontrada a Pianarucci l'uomo scende dal mezzo e si inoltre in una zona nascosta dove nessuno potesse vederlo mentre intento a fare le sue cose il suo sguardo viene catturato da qualcosa che gli sembra un piede con indosso una scarpa che veniva fuori da un sacchetto nero della spazzatura e sconvolto torna verso la sua auto alla ricerca di una caserma dei carabinieri mentre percorre via dei caduti di Nasseria intercetta una pattuglia dei carabinieri a cui facceno di fermarsi ai militari dice di aver trovato un cadavere sul greto del fiume Chienti l'uomo li accompagna fino al luogo del rinvenimento e lì in fondo alla scarpata impigliato fra i rami i carabinieri costatano la presenza di un corpo di donna chiuso dentro dei sacchettineri della spazzatura e in avanzato stato di decomposizione accanto al cadavere un orologio una maia dalla fantasia maculata e delle scarpe da ginnastica quello era il cadavere di Renata Rapposelli la pittrice che tutti da un mese stavano cercando era sempre stata lì dal giorno in cui qualcuno dall'alto l'aveva gettata in mezzo ai cespugli che costeggiano il fiume tra spazzatura ed erbacce altro che ritiro spirituale Renata era stata uccisa secondo l'autopsia effettuata sul cadavere di Renata Rapposelli la morte risaliva a non più di 30 giorni prima ma non solo la donna si appurerà era stata strangolata qualcuno le aveva stretto le mani intorno al collo fino a farla soffocare la data della morte quindi potrebbe essere la stessa del giorno della scomparsa il 9 ottobre 2017 per gli inquirenti ci sono pochi dubbi a uccider Renata Rapposelli erano stati Simone e Giuseppe Santoleri due le ipotesi secondo gli investigatori la prima è che la donna era stata attirata Giulia Nova dall'ex marito in combutta con il figlio Giuseppe in diverse telefonate le aveva detto che Simone aveva quasi certamente un tumore una notizia che aveva gettato Renata nell'angoscia spingendola a partire per Giulia Nova una trappola insomma architettata da padre e figlio una volta in casa Renata sarebbe stata strangolata da Simone con la complicità del padre Giuseppe un omicidio premeditato quindi perpretato ai danni di una donna che secondo la loro convinzione aveva intenzione di rovinarli e di ridurli sull'astrico e questo perché Renata era più che mai intenzionata non solo da avere indietro gli arretrati del mantenimento che l'uomo non le aveva mai corrisposto ma anche ad ottenere un assegno di mantenimento più alto e questo per Simone era semplicemente inaccettabile perché i soldi in casa sarebbero stati di meno e avrebbe rovinato la sua esistenza da figlio mantenuto ma questa ipotesi viene presto scartata perché in realtà Renata non aveva alcuna intenzione di chiedere una revisione del mantenimento ma piuttosto di ottenere una sua pensione l'altra ipotesi è che Simone fosse sì al corrente dell'arrivo della madre ma che il suo fosse stato un omicidio di impeto scaturito da una lite per i soliti motivi economici ma non solo Simone temeva che la madre per appianare gli impegni economici del marito potesse tornare insieme al padre lasciando lui senza la sua principale fonte di sostentamento e con la paura che la donna sperperasse i soldi della pensione del padre inseguendo inutili sogni di gloria come artista il pensiero fisso di Renata quella possibilità resa concreta da un padre innamorato e remissivo fa infuriare il figlio che si scaglia contro la madre finendo per strangolarla quell'omicidio avrebbe chiuso il cerchio di odio che Simone nutriva per la madre una donna a suo dire avida interessata solo ai soldi che non si era mai comportata come una mamma un odio che Simone aveva espresso chiaramente di fronte alle telecamere di chi l'ha visto Simone però respinge ogni accusa né lui né il padre avevano a che fare con quella morte egli a Tolentino non c'era neanche mai stato ma a smentire questo dato c'è più di un elemento c'è la testimonianza di un'amica di Santoleri che sostiene di esserci stata proprio con lui e poi un lapsus durante una ripresa per una trasmissione che avrebbe dimostrato che Simone Santoleri conoscesse come la zona in cui era stata ritrovata la madre qualcosa che egli riferisce a Deambulè durante una pausa tra una ripresa e l'altra ma debitamente registrata l'uomo all'inviato sta raccontando di quando il maresciallo della caserma di Cingoli lo aveva chiamato per comunicargli della denuncia di scomparsa della madre ed ecco cosa dice Simone Buongiorno, sono il maresciallo della caserma di Cingoli mi viene Chienti non so perché ma invece è Cingoli mi viene Chienti non so perché invece è Cingoli Chienti, il fiume sul cui Greto qualche giorno prima di quell'intervista i due uomini avrebbero gettato Renata Rapposelli la parola Chienti tra le altre cose appariva tra le ricerche che l'uomo aveva fatto su Google nei giorni successivi alla scomparsa della madre una mera coincidenza? ma il caso è disseminato di indizi che sembrano incastrare padre e figlio intercettazioni ricerche internet testimonianze come quella resa da un'impiegata della palestra con annessa piscina adiacente alla casa dei santoleri che smentisce totalmente la versione di Simone circa gli orari in cui la madre sarebbe andata via da casa e cioè intorno alle 14 la donna infatti riferisce che quel 9 ottobre intorno alle 16.30 avrebbe sentito un uomo urlare insulti molto pesanti all'indirizzo di una donna l'uomo oltre a insultarla aveva anche rivolto delle frasi ben precise tu non ci sei mai stata e adesso pensi di venire qui e riprenderti tutto? la donna riconoscerà nell'uomo la voce di Simone Santoleri suo vicino di casa il quale però non saprà in alcun modo spiegare quelle parole urlate in un orario in cui la madre a detta sua era già via a confermare il fatto che Renata fosse ancora Giulia Nova ben dopo alle 14 c'è anche la testimonianza di una farmacista che tra le 15.30 e le 16 aveva visto entrare in farmacia una donna in lacco gli anni piuttosto agitata e che gli avrebbe chiesto degli ansolitici la donna aveva detto di chiamarsi Renata Rapposelli tra gli indizi raccolti c'è anche un'intercettazione ambientale di una conversazione avvenuta tra padre e figlio che frebbe emergere il piano messo in piedi dai Santoleri per nascondere l'omidio di Renata la conversazione viene captata durante il tragitto che i carabinieri fanno verso il luogo dove Santoleri padre aveva detto di aver lasciato la moglie nella volante ci sono anche Simone e Giuseppe che deve indicare il punto esatto con una scusa i carabinieri effettuano una sosta e lasciano padre e figlio da soli in auto basta che ti ricordi dove siamo stati basta che ti ricordi dove siamo stati questo dice Simone al padre siamo stati per gli inquirenti alla luce del ritrovamento del cadavere di Renata Tolentino quella frase significava che Simone aveva dovuto studiare il probabile percorso che il padre avrebbe dovuto fare per accompagnare Renata ai piedi del santuario e questo perché Giuseppe quel percorso non lo aveva mai fatto e quindi non aveva idea di quale punto indicare con precisione Giuseppe Santoleri è l'anello debole della coppia quello che non appare mai in video quello che lascia parlare il figlio e che ogni volta che viene convocato in procura sviene e chiede di essere ricoverato per gli inquirenti Giuseppe si sottrae e finge di stare male perché al contrario del figlio non sarebbe stato in grado di reggere alla pressione di un interrogatorio serrato e poi perché si sarebbe potuto tradire ed è quello che accade il 4 marzo 2018 quando i due al termine della chiusura delle indagini vengono arrestati con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere Giuseppe Santoleri davanti al jeep libero da condizionamenti di sorta accuse il figlio di essere lui l'assassino della moglie egli succube da sempre di Simone era stato messo in mezzo per coprire le responsabilità del figlio l'uomo seppur a fatica racconterà anche le circostanze che avevano portato all'occultamento del cadavere di Renata che era stato portato via da Giulia Nova tre giorni dopo l'omicidio intorno alle 11 del mattino e in effetti la Fiat 600 proprio quel giorno e a quell'ora verrà ripresa da una telecamera di un casello autostradale mentre procede in direzione nord rispetto a Giulia Nova e quindi in direzione Tolentino mentre in un altro fotogramma si vedrà chiaramente il posteriore dell'auto dal cui lunotto sbucava un'enorme scatola dentro la quale secondo Giuseppe Santoleri era stato posizionato il cadavere di Renata Simone Simone invece sosterrà che dentro la scatola ci fossero i vestiti del padre che l'uomo aveva dovuto portare via da casa in vista dei lavori di muratura che aveva intenzione di effettuare in una stanza dell'appartamento tuttavia né in sede di indagini né in sede di processo si riuscirà a stabilire se effettivamente in quell'auto ci fosse o meno il cadavere di Renata il GIP dopo la confessione di Santoleri padre confermerà la custodia cautelare in attesa di processo per entrambi e qui inizia un altro capitolo della storia di cui Simone è il mattatore indiscusso in carcere i Santoleri vengono messi nell'ala dedicata ai collaboratori di giustizia e lì l'uomo dalla parlantina incontenibile non riuscendo in alcun modo a placare la sua irrefrenabile voglia di raccontare di sé ai compagni di Cella dice qualcosa di incredibile se da un lato negherà assolutamente di essere egli il responsabile della morte della madre dall'altra di quello medio accuserà il padre Giuseppe Santoleri ed eccolo il colpo di teatro che mancava in questa storia strana e triste Giuseppe al culmine di una lite avrebbe strangolato la moglie e avrebbe chiesto al figlio di proteggerlo proprio lui uno scricciolo di uomo con una mano fuori uso come Simone ha più volte sottolineato in diverse trasmissioni televisive un uomo così debole che difficilmente avrebbe potuto tenere ferma una donna come Renata che pesava molto più di lui l'uomo buono remissivo che non avrebbe fatto male a una mosca improvvisamente si trasformava nell'assassino spietato che con una mano sola era riuscita a uccidere la moglie i compagni di cella di Simone quando lo sentono parlare ormai non prestano neanche più attenzione a quello che dice è in quella febbre di parole che l'uomo vomita da mattina a sera cambia versione ogni volta un giorno però tutta la rabbia che l'uomo conteneva dentro esploderà improvvisamente l'uomo in un momento di forte nervosismo aveva esclamato queste parole quella purtana mi ha rovinato la vita da bambino e continuo a farlo anche adesso che è morta e mentre lo diceva le sue mani simulavano il gesto di strozzare qualcuno le stesse mani che quel giorno si sarebbero strette intorno al collo della madre mentre la insultava e le vomitava addosso tutto il suo disprezzo in sede di processo le dichiarazioni dei compagni dei compagni di cella di santoleri verranno fortemente messe in discussione al punto che la difesa di simone sosterrà che i compagni si erano messi d'accordo per incastrare l'uomo e fargli confessare l'omicidio per farsi belli con la procura e ottenere sostanziosi sconti di pena nel settembre del 2020 al termine di un processo altamente indiziario simone e giuseppe santoleri verranno ritenuti colpevoli di un volontario e occultamento di cadavere in particolare simone santoleri verrà considerato l'esecutore materiale e verrà condannato a una pena di 27 anni di reclusione santoleri padre invece verrà condannato a una pena di 21 anni di reclusione sentenze confermate in tutti e tre gradi di giudizio renata era una donna senza dubbio particolare che aveva fatto delle scelte di vita per certi versi estreme votando la propria vita all'arte e a dio e trovo la sua storia molto triste perché in qualche modo renata voleva ricominciare a vivere riacquistare una sua dignità e le persone che in un mondo ideale avrebbero dovuto esserle più vicine hanno messo fine a quella vita simone e renata per tutta l'esistenza si erano combattuti a vicenda ed è come se questa storia non potesse avere avuto un finale diverso e infine giuseppe un uomo remissivo succube definito buono ma in realtà solo debole dalla psiche fragile e di cui simone si è servito renata meritava di vivere e di lasciarsi alle spalle una vita fatta di illusioni tradite e magari guardare al futuro con ottimismo e il sorriso che chi l'ha conosciuta amava di lei e si conclude così il mio video questo è un caso abbastanza noto e anche abbastanza recente e che mi ha sempre colpito dalla prima volta di che ne ho sentito parlare soprattutto per appunto la personalità così strabordante di simone santoleri ma anche per la fine triste di questa donna questa donna che ha sempre inseguito questo sogno di diventare un'artista e che in fondo voleva semplicemente vivere dignitosamente tante delle cose che simone ha detto della madre sono assolutamente frutto del suo odio nei confronti della madre tante invece sono assolutamente veritiere e confermate dai testimoni che al processo insomma hanno partecipato come testimoni tuttavia mi sento di chiedervi di essere gentili con lei di essere gentili in generale nei commenti perché è facile giudicarla questa donna è facile dire che avesse abbandonato i figli che fosse stata una madre poco attenta è sicuramente vero tuttavia credo che simone avesse ben altri problemi e che in certo qual senso qualsiasi cosa avesse fatto sua madre gli avrebbe comunque odiata questa è la mia percezione questa è la mia idea poi ovviamente siete liberi di dire tutto quello che volete l'importante è che siate rispettosi e gentili nei confronti della vittima ad ogni modo se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video potete ascoltarmi anche in versione podcast vi lascio il link in descrizione e mi potete seguire anche nella mia pagina instagram che è la contastorie e a presto con una nuova storia crime ciao